Spostiamoci ora a Roma per questa intervista a Giacomo Stucchi. Tanti gli argomenti trattati dal senatore del Carroccio, dal ruolo di opposizione costruttiva della Lega a Roma, delle riforme costituzionali e d'Europa. Sentiamo. Senatore Giacomo Stucchi, la mozione della Lega Norda approvata nell'Aula del Senato, quale significato ha? Un significato importante, perché comunque è una mozione che ha avuto gli stessi voti della mozione della maggioranza, che dà un indirizzo preciso per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere. Praticamente fa capire che la Lega è disponibile a partecipare a tutti i lavori della Commissione che dovrà redigere il testo, che poi passerà in Aula alla Camera e al Senato per quanto riguarda la modifica costituzionale, che la Lega vuole avere un ruolo da protagonista, ma che soprattutto gli obiettivi che ci siamo posti tutti assieme per quanto riguarda questa modifica costituzionale sono obiettivi ambiziosi, ma che è necessario raggiungere. Ciò non toglie, comunque non rimaniamo per quanto riguarda l'azione del Governo all'opposizione, anche se è un'opposizione sicuramente non preconcetta, un'opposizione che non può essere a critica, ma un'opposizione, come si suole dire, costruttiva. La Lega insomma rimane sulle sue posizioni, ovvero quella di cambiare questo Parlamento, fare la riforma parlamentare, come aveva fatto con la Devolution che poi la sinistra aveva fossato. Sì, Roberto Calderoli ieri intervenendo in aula ha dato proprio questa lettura. Se si fosse approvato il referendum con la modifica costituzionale fatta nel 2006, oggi non saremmo qui a discutere dei mille problemi di questo Paese, non avremo più il bicamerismo perfetto, avremo avuto quasi la metà dei parlamentari rispetto ad oggi, avremo avuto tanti costi in meno e tanti problemi in meno. È una Lega molto pratica già allora, una Lega molto pratica fin dalla sua nascita, una Lega molto pratica quindi anche adesso. In Commissione questa mattina il Ministro Moavero a proposito di riforme ha riferito appunto di quello che è avvenuto in Europa con la Commissione europea che ha stoppato il deficit. Come si pone la Lega su queste parole? Noi riteniamo che sia positivo uscire dalla procedura di deficit eccessivo. Naturalmente questo non basta, nel senso che se uscire dalla procedura vuol dire aprire nuovamente i rubinetti per l'assistenzialismo e ad assistere al partito alla spesa pubblica, vuol dire che tanti sacrifici sono tutti fatti inutilmente. Siccome la maggioranza di questi sacrifici sono tutti fatti dall'impresa e dalla gente del Nord per risanare i conti pubblici, sarebbe una presa in giro inaccettabile. Grazie. Grazie.